Si è conclusa l'operazione complessa nazionale denominata Countdown della Guardia Costiera che durante il mese di dicembre ha visto impegnati tutti i comandi territoriali del corpo nei controlli lungo l'intera filiera ittica, dal mare ai principali mercati ittici fino alla tavola dei consumatori. In ambito ligure, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Genova, anche l'ufficio circondariale marittimo di Luano Albenga ha intensificato la vigilanza sulle attività di pesca in mare, in banchina, presso i punti di sbarco e lungo tutta la filiera ittica commerciale, effettuando verifiche e ispezioni finalizzate al contrasto della pesca illegale e delle frodi in commercio per la tutela degli stock ittici, dell'ambiente marino e del consumatore finale. Durante gli oltre 30 accertamenti svolti nel corso delle mese dai militari della Guardia Costiera di Luano Albenga, sono emerse in particolare violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. In tema di etichettatura, sono state elevate sanzioni per 3.000 euro nei confronti di due pescherie locali, in quanto il prodotto ittico offerto al consumatore è risultato incompleto delle previste informazioni necessarie al cliente per acquistare la merce consapevole della sua esatta natura e provenienza. In materia di tracciabilità è invece stato sanzionato il titolare di un ristorante etnico, in quanto nelle celle frigo il personale della Guardia Costiera ha rinvenuto a circa 30 kg di prodotto ittico destinato ad essere consumato crudo, privo delle informazioni che consentissero di accertarne la corretta provenienza. Il titolare è stato sanzionato per 1.500 euro e il prodotto ittico è stato sequestrato.